Il reality show Temptation Island ha sempre attirato l'attenzione del pubblico, ma l'ultima edizione ha portato alla ribalta la storia di Mirko Rossi e Giulia Duranti, una coppia che sembrava destinata a durare. Dopo quasi dieci anni di relazione, la loro storia si è interrotta in modo drammatico, lasciando i fan a chiedersi cosa sia andato storto. La rottura è avvenuta durante il programma, dove Mirko ha scelto di uscire con la tentatrice Alessia Sagripanti, mentre Giulia ha iniziato a frequentare un nuovo giovane, Andrea Piteo. Recentemente, Giulia è stata avvistata in compagnia di Andrea a Roma, suscitando l'interesse dei media e dei fan. La giovane ha confermato la nuova relazione attraverso un post su Instagram, dove ha sottolineato l'importanza dei sentimenti piuttosto che dell'identità del suo nuovo partner. Tuttavia, la situazione si complica ulteriormente, poiché Mirko e Andrea sono amici di lunga data e hanno persino giocato insieme nella stessa squadra di calcio. Secondo le indiscrezioni, la loro amicizia sarebbe stata messa a dura prova da una rissa, che ha portato entrambi a essere messi fuori rosa dalla squadra. Il noto esperto di gossip, Alessandro Rosica, ha rivelato che Giulia e Andrea si frequentavano già da oltre un anno, prima della partecipazione di Giulia a Temptation Island. Questa rivelazione ha scatenato un'ondata di interesse da parte del pubblico e dei media, che ora seguono con attenzione gli sviluppi di questa intricata vicenda amorosa. Resta da vedere come si evolverà la situazione tra Mirko, Giulia e Andrea, e se ci saranno ulteriori colpi di scena in questa storia che ha tenuto incollati.